e fernando buongiorno don fernando buongiorno che cos'è questo in pista? questo è il mio salone di barbiere ho aperto un salone di barbiere qui al sabato al circo ecco ho bisogno di qualcuno che sa fare la barba tagliare i capelli io ho lavorato in un salone io io so tagliare i capelli la barba eccetera eccetera ma è fantastico vorresti lavorare per me? oggi è un sabato al circo? si va bene fantastico allora dammi la giacca ecco qui ma cosa fai? so ma no ma no fernando non del pantalone fuori con la giacca fuori con la giacca ecco va bene allora vieni qui ecco qua una camicia bianca una camicia? ecco hai clienti? si bene allora le mandi dentro Ecco il cliente, un applauso per il cliente. Buongiorno caro signore. Buongiorno. Molto bene. Ecco così. Il signore come va? Bene. Il signore va bene? Sì. Il signore desidera? Tagliare i capelli. Tagliare i capelli. Ma è fantastico. Ma guarda signori, ecco qua il barbiere, prego. Si accomodi signore. Si accomodi. Ecco. Tagliare i capelli. Oh, che bella caccia di sberla. Ciao. Ciao. Voilà. Bene, adesso tagliamo i capelli. I capelli. Prego il forbice. Mamma mia. Piano, eh? Piano. Ecco signore, tagliamo un po' i capelli. Bravo canano. Così. Attento. Ma no. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Non è possibile. Oh, ma è successo. Ehi, lui mi ha picchiato. Vi ha picchiato? Si. Hai picchiato il cliente? Io? Si. No. Bambini, Fernando ha picchiato il cliente, si o no? Voilà. Prego. Figaro. Figaro, Figaro. 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 Ecco. Ah, si, si. Benissimo. Adesso. Oh! Prendi. Posso mi servirvi di asciugare i capelli? Si. Ben. Signore, in due minuti i vostri capelli sono secchi. Ah, ah. Questa è fantastica. È molto moderna. Si, abbiamo un salone molto moderna. Signore. Ehi, ehm, io lo metto qua a 10. Si. Si. Benissimo, signore. Atenzione. Ehi, ehm, ehm. Oh! Cosa succesi? Oh, io, io, io. Oh, tu, i braci denti, signori. Iscriviti. Chegajmo, signore! No! Signore! Signore! Chegajmo! Oh! 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 Oh!